ok eccoci qui raga per voi un nuovo look di capelli che oggi è venuto un barberry io mi sono svegliato prima e lui è venuto alle 11 di questa mattina alle 11 io vi voglio dire mi sono tagliati i capelli l'estate me l'è tagliato tutto il codino e inverno voglio dire che quando fa freddo me le lascio e faccio i capelli lunghi mi cresco inverno altri capelli a stati facato e me le sono tagliati ora questo video lo faccio e mostro i capelli come le ho tagliati guardate sono bello così vediamo bene una fidanzata voglio dire seguitemi quando vedete fate i bravi e non fate i cattivi mettete mi piace iscrivetevi al canale per tutti i ragazzi e niente eccomi qua finiva di mangiare vi voglio dire buonasera buona cena ho mangiato avete mangiato guardate i miei video e fate i bravi ok ho prendo la catapulta e vi butto fuori ok ho cambiato look io l'ho tagliato è venuto un barberry il lazzaro alle 11 e l'ho tagliato io e la mia famiglia prima loro e dopo io sono bello e niente saluto una fan meriana di fortnite ciao meriana saluto anche tutti voi che siete i miei fan e sono il vostro idolo fate i bravi ok qua sotto trovate tutti i link di amazon andate nella lista che tutti i siri metto qualcosa e anche quell'altro link e mandatemi i pacchi quando avete tempo se mi arrivano i pacchi di amazon a casa io le apro e saluto a voi con i biglietti e c'è anche il link dei gameplay che porti sabato e domenica i giochi per voi i gameplay ok e niente sono qua e ho finito di mangiare ho guardato la televisione e a veglia sta girando e tana e vanno i nuovi e tardi così faccio il video ora così dopo mi lavo i denti e devo caricare prima il video quello con i capelli lunghi che ho fatto a ieri e questo l'ho fatto ora così mostro un altro bello look che ho tagliato i capelli così sto bene ok e niente raga andiamo io voglio salutare quell'altro non mi voglio spertire saluto Marco Laggelli Uc del nord Alago Leics Assunta e tutti voi ok e poi saluto Fabio Valentina Mauser3 Over e Antonio ah ok Antonio Francesco Valentino e Andrea e Francesco e dopo Fabio Valentina Mauser3 Over e tutti voi Simone Giody Davide Rubino Cristiano Bartavello baci vi voglio bene ok John Zina Yo yo Mene Zini Cucu set mamau ciao raga mamma mia con questo look sto bene ok andiamo vabbè andiamo dai ok ok e niente raga sono qua sono qua per voi guardate il mostro i capelli qua non ci sono aspettate ok eccoci qua eccoci qua raga ecco che ora è in questa ora lo sto facendo vediamo sono le 9 e 4 di sera buonanotte avete sentito o volete di nuovo ecco che ora è sono le 9 e 4 di sera ecco ecco quanti gradi ci sono a Motta San Giovanni in questo momento a Motta San Giovanni Italia la temperatura è di 22 gradi Celsius per stasera la minima prevista è di 21 gradi ok o niente raga io voglio raccontare tante cose e posso cantare a Muzzo con le frasi a Muzzo so cantare io quanto quanto voglio raga raga io voglio bene a voi comando io lasciatemi in pace che io sono numero uno comando io sono il maestro sono italiano con la presa di aletto io porto tanti contenuti oggi perché lo sto portando qua a casa l'ho detto a voi che lo dovete vedere là sotto devo fare uno o due video là sotto vicino il gallino su pro barcuno da ruga qua fuori in giro state tranquilli che le faccio non è che non le faccio e mi sperdia non mi sperdia avete il mio permesso e state tranquilli che le faccio ok quest'estate che già quasi siamo a maggio ancora ora quando finisce maggio viene giugno e niente ancora c'è maggio ho messo la diretta per grammata il 31 maggio 2022 alle 15 e 30 c'è la diretta parliamo così cerco la fidanzata o vada la cerco io o me la cerco su youtube così vuole venire a vedere a me parliamo mangiamo andiamo fuori di cena mi dissocio mi scuso perdonatemi ok andiamo ok raga eccoci qua con il mio taglio sex che oggi è sulla storia volevo fare la storia ma aspettia su youtube vi dico che a ieri che oggi dove veniva un po' la un po' arberi e vabbè mostro il video è meglio e vabbè e niente raga che io mi sono tagliati i capelli perché l'estate fa caddo l'estate le posso tagliare i miei capelli crescono quanto vogliono vogliono tempo crescono piano piano i miei capelli ok crescono da soli io l'estate me le taglio i capelli mi taglio e inverno me le cresco come prima che avevo lunghi col codino attaccato ok a prossima inverno me le lascio me le cresco e l'estate me le taglio i capelli voi che ora o sempre o uno sì o uno no che non le tagliate sempre voi i capelli o le tagliate a zero o fate un taglio sex o il disegno qua il disegno ci sono persone per sopra o in tante parti i barperi dicono le persone voglio un disegno qua sopra i capelli loro lo fanno o o il scudetto della vostra squadra o altre cose scritto non so o disegno sopra qui non ho fatto mai io il tatuaggio del braccio del petto o da schina o del del mio corpo non l'ho fatto mai il tatuaggio io lo volevo fare vabbè ho trent'anni e sono di Mottasagno di Reggio Calabria e sono il vostro Enrico Pasquale pratico tutti e le accendo solo o ho trent'anni ancora se può ci sono persone che hanno l'età o stesse i miei o in più o in meno lo fanno lo stesso i tatuaggi loro e io non l'ho fatto mai i tatuaggi di Pikachu la mia infanzia dei cartoni animati volevo fare un tatuaggio di Pikachu o quello di Inazuma Eleven Mark o o i tatuaggi ci sono tutti i tipi di tatuaggi che si può fare non assai tutto il corpo che dopo sarei ho visto tanti sui social che hanno tutti i parti i tatuaggi io mi dissocio mi scuso perdonatemi io ho zero tatuaggi io ho zero i miei parenti i miei cugini la mia famiglia non volevo notando io ora sono grande ho 30 anni il tatuaggio posso fare uno piccolino quello che voglio un tatuaggio bellissimo lo faccio dopo lo mostro una storia o quando faccio un video prima devo vedere che tatuaggio e boom e niente sono qua raga e niente raga fatti bravi sto giustando ungele così io sono pulito che ho fatto i lavori oggi pomeriggio e anche la mattina che vado a Zapparavigna quando sono tornato la mattina sono andato a Zapparavigna quando sono tornato mi sono fatto la doccia mangiai dopo ho fatto altri lavori qua pomeriggio ho finuto e ho fatto di nuovo la doccia e tutti i giorni se deve fare la doccia raga ok che io ora mi lavo i denti che è tardi che devo andare a giocare con loro al gioco sex e raga iscrivetevi al canale bello a tutti ragazzi un like secondo quando godete e niente raga so parlare voi avete problemi io parlo quanto voglio voi avete problemi io sono sano meglio di voi che non io so parlare sono andato a scuola e so tutto vabbè un taglio forza Juve forza Regina forza Italia fino alla fine fino alla morte io tifo queste squadre qua sul mio cuore non le cambio mai io voglio bene a Francesco e a Valentino Andrea e Antonio io parlo sempre con loro su Discord scherziamo diciamo stronzate non fa niente io scherzo anche loro scherzano ridiamo si deve ridere raga non si deve piangere arrabbiate e tristi si deve ridere fate fate un sorriso e ridete fate bene fate i bravi volete parlare con me o sui social o su Tele o dove volete di voi voglio dire mi dissocio sono italiano con la brezza di dialetto voglio dire vi do il mio numero di post mobile quello vecchio o ve lo scrivo sul titolo o lo pubblico sui post su Youtube o sui social o su Tele vi do il mio vecchio numero di post mobile così le persone mi contattano mi chiamano o mi dicono le domande o vogliono parlare con me o vediamo e faccio anche il segreto o Micol che è un po' di Johnny sono passati che non porto là vabbè il segreto guardo quello che scrivono le persone o Micol non è una brutta idea lo posso anche portare di nuovo non so che giorno porto video così e quello che avete detto voi e ok andiamo nella cucina e registramo un altro pezzo dai andiamo baci vi amo mi mancate ora voglio dire una cosa a quelle persone che rubano i video o pubblicano i clip o rubano i video sui social o su Youtube me ne frego belle miei voi non capite io sono grande lasciatemi in pace che io sono grande perché io sono famoso prima di voi voi non siete famosi siete persone normali e siete la vergogna del vostro paese smettetela io non ho paura di voi io sono grande voi avete paura da me belle miei avete paura io faccio quello che voglio i video faccio sempre e sono bravo che loro le persone e rompono le scatole o raccontano stronzate devono andare in un centro giovanile così imparano a dire stronzate sui social voglio dire sui social e su Youtube dovete andare lì voi imparare le cose giuste non dovete dire le stronzate io sono andato a scuola qua a scuola media e ho studiato ho giocato dopo a Melo Porto Salva a scuola media dopo a ragioneria a terza A io sono grande e mi sono imparato tante cose non è che sono arrabbiato e ho detto solo questo e dopo non dico più parlo di quelle persone che dicono stronzate mi vogliono male a me io me ne frego le lascio dire e così si stufano e non commentano più sui social e iscrivetevi al canale bello a tutti ragazzi un like seguitemi quando vedete e niente raga del vostro Enrico Pasquale Pratico con tutti e l'accento sull'o ho 30 anni e sono il numero uno comando io e sono il maestro sono una leggenda sono famoso sono uno youtuber e sono il migliore volete venire a trovarmi a casa mia o quest'anno a Lazzaro ci vediamo in giro o qua a casa mia facciamo le foto la firmo e un video saluto ok ricordatevi o la firmo e un video saluto le foto o la firmo e un video saluto ho detto giusto non voglio dire le stesse frasi voi non capite lo devo dire tante volte vi voglio ben dai qua sotto trovate il link di Amazon c'è quell'altro link c'è la mia lista che tutti i Siri mettono qualcosa dopo qua c'è il link dei gameplay il sabato e la domenica il sabato e la domenica carichi i giochi i gameplay e niente raga io vi saluto quasi chiudiamo aspettate ok eccoci qua oggi alle unici è venuto barbere e mi ha tagliato in cappella a me e la mia famiglia ok raga mamma mia questo look alla prossima raga vi voglio bene ok tutti i giorni video per voi e andiamo a fare i saluti e niente ciao raga alla prossima ciao belli così un bacio non mi dissocio ciao raga alla prossima ciao ciao belli